Nonostante le difficoltà economiche, il comune di Vallo della Lucania non intende rinunciare alle luci di Natale. Per far fronte alla carenza di fondi, la giunta del sindaco Antonio Aloia ha deciso di partecipare alle spese per l'installazione delle luminarie per le vie cittadine. Gli assessori e il primo cittadino rinunceranno alla propria indennità per pagare le luci. Il costo complessivo è di circa 20.000 euro, 15.000 saranno prelevati dal bilancio comunale e 4.700 euro saranno coperti dall'indennità di carica della squadra di governo. Non è la prima volta che le amministrazioni comunali devono far ricorso al proprio compenso per sopperire alla carenza di risorse economiche. Già stabilite le strade da illuminare nel centro cittadino e nelle periferie di Vallo della Lucania. Tra queste Corso Famiglia dei Mattia e Corso Murà, le vie Rinaldi e Cammarota e le piazze Santa Caterina e Vittorio Emanuele. Le illuminazioni natalizie saranno installate anche davanti alle chiese. Tutte verranno accese l'8 dicembre e spente il 6 gennaio 2020.